Errata è il barranco del Dolo Esatto No, no, vai tranquillo È per far vedere un po' Un tipo di percorso Ah, allora ci andrò avanti io Magari ci vado il weekend prossimo Quella là è la parete Dove andiamo No, da qua sembra piccolina Però in realtà è un bel dislivello Mi sembra Un po' di sassi Mi piacciono i sassi Eh? Mi piacciono i sassi Sassi Bene Bene, siamo pronti alla ferrata Gasate Gasate Cariche E andiamo Allee Facciamo un passaggio un po' muscolare Ah, adesso usa quello esatto Oppure usa anche solo il cavo E ti tieni con le gambe così Cioè ti metti le gambe abbastanti in alto E fai pressione Ecco Ora qua sei un po' più tranquillo Comunque questa è la massima verticalità che c'è Quindi se l'hai fatta vuol dire che vuoi farla tutta Grande Sassi Lo vedi Ma non sento sassi Allora Ah Sassi C'è La 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 Sassi La 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 bello qua questo canyon molto ma è la prima ferrata è la prima ferrata va abbastanza bene ma guarda che sta in alto dio eh si infatti se io ho mai visto uno così per la prima ferrata allee non aveva minimizzato neanche il coper della ferrata ecco lì infatti c'è quel passaggio lì vedi esattamente dove sei te li svalica sopra e lì c'è il chiodo marcio non so perché l'ho ripescat e ogni tanto lo uso anch'io marty allora questa è la via ferrata che si interseca con la via dello spigolo del dolo infatti adesso siamo proprio sulla via quella che ho pubblicato nella penultima puntata se non l'avete vista andate a vederla subito mettete like e condividete e seguite e seguite c'è stata un'imprecazione in acqua poco qua c'è l'ultimo passaggio della ferrata ecco qua ehi anche i cori si arriva questa di sicuro da soli la prima volta non la si fa da soli? eh eh il vantaggio è che per avvicinarci siamo scesi facendo la ferrata abbiamo salito e quindi ora siamo arrivati alla macchina e poi siamo in bolla allora ti è piaciuto? bellissima ma è proprio bella poi tira anche un po' ma si cioè come va questa pratica bene adesso se vuoi mangiare tre trappettine lì che sono bellissime cioè principalmente alla fine che è lì ghignosi no bellissime sì però è fatta bene come ferrata quindi è sicura bene ferrata terminata siamo tutti carichi un po' sfatti però è andata bene è un po' sfatti Grazie a tutti.